Sì, sì, sì. Ci serve lei. E un medico. Cattivissimo me! È morbidoso da morire. Sto morendo. Non respiro. Scarface! Salutatemi il mio amico! Ciao! Secondo me è un tantino più minaccioso. Io non minaccio il mio amico. Lui ha un grosso fucile. È il momento clou del film. È pazzo. Ho capito. Salutatemi il mio amico! Da-da-da-da-da-da! Notting Hill! Sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla. Ok, credo che Plimpton abbia le pagine sbagliate. Sì? Boh, imbalzate. Ti presento i miei! Io ho i capezzoli, Greg. Vuoi mungermi? Ok. Sì. Jurassic Park! Quindi la parte è mia? Ah beh, sai, a dire il vero, la cosa funziona così. Mettimi nel film o mi mangio downy per dessert? Ho capito. È perfetto. Ok, stop, stop, è un film per famiglie